Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Quante ore studiare a settimana? Oggi voglio farti vedere attraverso una presentazione grafica. Questo che è un argomento che abbiamo trattato altre volte, ma che vorrei approfondire cercando di farti capire anche da un punto di vista grafico e appunto visivo e anche in un certo senso pratico, come dovresti concepire proprio il ragionamento e quindi di conseguenza poter gestire al meglio tutto quello che riguarda le ore durante una settimana per studiare tutto ciò che devi studiare in una tempistica che non ti stressi troppo, che non mette quindi troppo alla prova la tua pazienza. Quindi partiamo proprio dal cercare di capire quante ore devi studiare a settimana. Ora, questo è un grafico, non preoccuparti, non è niente di troppo complesso, te lo spiegherò con la dovuta calma. Allora, quante ore studiare a settimana? Lo puoi dire dal sottotitolo, dipende dalla quantità e dalla complessità del materiale. Quindi quando studiamo, dobbiamo ovviamente considerare quante pagine studiare. Questo è, diciamo, l'approccio più classico, però c'è da considerare anche un altro aspetto. Talvolta non è tanto il numero di pagine il problema, ma quanto queste sono complesse. Quindi dobbiamo andare a tenere in considerazione entrambi questi aspetti. Ovviamente studiare un libro abbastanza semplice, con poche pagine, ci ruba, per così dire, molto meno tempo rispetto a un libro che non solo è lungo e inoltre anche molto complesso. Ora, qual è il quadratino, cosa significa il quadratino che trovi in alto a sinistra? Perché ho scritto un'ora cinque pagine e soprattutto il tuo ritmo di studio. Ciascuno di noi ha una buona abitudine nello studio, nel senso che con più o meno velocità riusciamo, prendiamo come esempio un'ora di tempo, a studiare un tot di pagine. Per esempio, cinque pagine in un'ora, che sembrano poche, ma in realtà non lo sono. Anzi, tenendo questo ritmo possiamo ottenere degli ottimi risultati. In modo particolare voglio farti capire come inserendo questo ritmo di studio, mantenendo questo ritmo di studio, possiamo andare a prendere appunto questa ora impiegata per studiare cinque pagine e ripeterla all'interno della settimana. Infatti, ti spiego la parte più in basso dello schema, ma è semplicissimo. trovi ogni colonna che è corrispondente ad un giorno della settimana. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. E non ho utilizzato i nomi dei giorni della settimana perché potresti preferire, diciamo, considerare l'inizio non con lunedì, ma con un altro giorno. Quindi per eliminare qualunque problema di comparibilità, di preferenze, ho preferito proprio indicare primo, secondo, terzo e così via. C'è una linea tratteggiata nel mezzo che è quella che distingue la mattina e il pomeriggio nello studio. È qualcosa che ti ho detto anche altre volte. Ti consiglio sempre di optare per una divisione delle sessioni di studio, delle ore di studio lungo la giornata, ovviamente compatibilmente con i tuoi impegni, ma in generale è ottimale riuscire a suddividere appunto le ore che scegli per andare a studiare. Quindi voglio farti capire come puoi, ripetendo lo studio di queste cinque pagine in un'ora di tempo, quindi in sostanza mantenendo questo ritmo di studio, quanto prospettando un'ora di studio al mattino e un'ora di studio al pomeriggio puoi ottenere in una settimana appunto con questo ritmo. Cosa capiremo alla fine? Che se questo ritmo ci permette di studiare tutte le pagine che ci siamo prefissati appunto di studiare, allora studiare un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio è sufficiente. E quindi quante ore studiare a settimana? Sostanzialmente un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, tutti i giorni, ci permette di arrivare a un certo risultato. Per dimostrarti questo, infatti, vado a fare questo step in più. Ho sostanzialmente ripetuto questo quadratino, questo rettangolo, anzi, nelle varie giornate, mattina e pomeriggio, mattina e pomeriggio. In sostanza abbiamo studiato due ore al giorno per un totale di dieci pagine al giorno e quindi in sostanza in sette giorni abbiamo studiato un totale di 70 pagine con un ritmo di due ore al giorno. Cioè è esattamente quello che ti ho fatto vedere poco fa, adesso applicato ovviamente all'intera durata settimanale. Alla fine cosa dobbiamo considerare come ragionamento finale? Dobbiamo andare a vedere il totale delle pagine studiate, cioè 70 pagine. Queste non sono poche, anzi, potrebbero essere già un ottimo punto, diciamo, di partenza per avere un buon ritmo di studio. Però potresti ovviamente anche dirmi, ma mi devo studiare molto più che 70 pagine, non possono bastare ovviamente solo queste. Devo aggiungerne magari anche altre 100, 200 e così via. Quindi su cosa devi agire? Abbiamo due opzioni. Da un lato puoi aumentare il numero di ore che dedichi ogni giorno a studiare. Quindi invece di studiare due ore al giorno, puoi studiare per esempio tre ore al giorno. Questo vuol dire andare a moltiplicare sempre all'interno di una settimana il numero di pagine che riesci a studiare. In sostanza vai aggiungere cinque pagine al giorno. E quindi questo già potrebbe essere un approccio. Un altro approccio invece è quello che considera non tanto aumentare il numero di ore, che talvolta per esempio non possiamo aumentare perché abbiamo altri impegni, ma quello che possiamo fare è aumentare il numero di pagine che studiamo in una stessa ora. E di conseguenza se invece in un'ora studiare cinque pagine riusciamo a studiarne sei, sette, otto, nove o addirittura anche dieci, questo vuol dire fare moltissimo sforzo in più sicuramente, ma accorciare di tantissimo le tempistiche. E quindi davvero se per esempio andando un po' a modificare questo schema che abbiamo qui davanti, in un'ora riesco a studiare dieci pagine e quindi in una giornata ne studio ben venti, alla fine avrò venti pagine, scusami, il primo giorno e venti pagine il secondo giorno, siamo a 40 più altre 20, siamo a 60 più altre 20, siamo a 80, poi 100, 120 e 140. Quindi abbiamo sostanzialmente raddoppiato il numero di pagine che abbiamo studiato nella stessa quantità di tempo a disposizione. Quindi come vedi, spero di non aver sbagliato molto con i calcoli, però il ragionamento è quello. Quindi possiamo agire o aumentando il numero di ore, mantenendo sempre lo stesso numero di pagine ogni ora, oppure manteniamo fermo il numero di ore ed aumentiamo invece il numero di pagine, in modo tale che queste due opzioni possano adattarsi alle nostre esigenze. Come vedi quindi è importante ragionare molto con i numeri e aggiustare tutte queste casistiche anche in funzione di quello che ti dicevo all'inizio, cioè la differenza tra la quantità delle pagine che devi andare a studiare e anche la complessità del materiale. Perché potresti tranquillamente mantenere il ritmo di 5 pagine in un'ora e studiare quelle 70 pagine a settimana, poi ripeti questo per le varie settimane fino al giorno dell'esame. E senza fare uno sforzo immenso puoi ottenere serenamente i risultati che ti aspetti, i risultati universitari che vorresti. Ovviamente questo è uno degli aspetti importanti per studiare in modo efficace. Se vuoi scoprire anche come puoi andare a utilizzare le tecniche di studio, capire come gestire al meglio non solo la settimana ma anche la singola giornata o, in un senso ancora più ampio, l'intera sessione di studio, l'intero accademico, io ho creato un metodo di studio che ho utilizzato in prima persona, che voglio proporti, si chiama metodo di QE, se non me lo hai sentito nominare ancora in precedenza. E questo sostanzialmente è un metodo di studio tutto incluso, che ti permette di gestire sia le tempistiche di studio e anche le tecniche che ti servono, che devi utilizzare quali di mente. In ogni caso, se vuoi scoprire di più, ti lascio il link in descrizione. E quindi questo era quello che ti volevo proporre oggi per darti anche una sorta di supporto grafico e farti capire, farti regolare, magari per esempio orientandoci su questo schema che è un po' più vuoto ma che può essere riempito in funzione delle tue necessità, quindi di come vorresti gestire le circostanze che ti trovi ad affrontare in quanto studente o studentessa e quindi fare in modo che tu possa agire in modo personalizzato e in modo specifico. Quindi innanzitutto ti ringrazio per la tua attenzione e per il tempo che mi hai dedicato e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie.